La prossima domenica verrà i miei fratelli di Piazza Merino, verrà solo Giuseppe e hanno il cuore di venire e ci vengono a trovare, magari dopo ne parliamo se vogliamo fare una piccola cosa e rimaniamo qua, così magari parliamo un pochettino e così via, poi ne parliamo dopo, va bene, e poi così rimane sempre per metà di ottobre il battesimo della sorella di Maria che scende dalla Germania, vediamo così anche faremo questo qua in Salve, alleluia. Ho invitato un fratello evangelista anziano di Giare, che l'ho conosciuto, vediamo se anche lui viene così nel frattempo del materiale che mi è rimasto di evangelizzazione, magari glielo do, così vediamo. È una persona simpata, che è grande alla sua età, è stata una vita in Brasile e poi è ritornata di nuovo qua perché le sue origini sono di qua, dopo che gli è morta la moglie, ed aveva una piccola opera missionaria lì a Giare, che distribuiscono materiali evangelico e cose varie. Gli abbiamo parlato del messaggio, così ho avuto opportunità quando c'è stato il funerale della moglie del fratello Tore, anzi salutiamo, qualche volta l'ho chiamato, ogni tanto non gli chiamo, ma di qualche messaggio, ma anche lui sarà impegnato impegnato e così via. E niente, vediamo se di 200 avremo anche come ospite questo caro fratello anziano. Ok, il signor ci benedica, fratello, io volevo dire solo una cosa, che se non fosse stato per questo messaggio, fratello, che ci ha mandato il profeta, saremmo tutti in mezzo a una strada, sinceramente. Perché in questi giorni, mentre ho avuto un po' di libertà, ho voluto fare un giro così su internet, sulle chiese che ci sono qua nel nostro, nella nostra zona, su, per vedere che cose gira e che cose si predicano. Fratello, purtroppo sento questo messaggio, ragazzi, siamo completamente all'oscuro, con tutta la loro bene volontà di portare messaggi e cose, sembriamo, sai, sembriamo i studi di Fisto College, presente. Perché la predazione è che il signore, il signore ha un piano con te, ha un progetto con te, il signore vuole fare qualcosa con te, ma se noi andremo là, dici il signore, ha fatto qualcosa per noi, e sia usato di qualcuno, lo prendono per il diavolo. Perché nessuno con me, che veramente quando Dio si è mosso, si è mosso con i segni del profeta, fratello, e il profeta ci ha spiegato veramente chi è il figliolo di Dio, e purtroppo chi non è. Oggi vedremo veramente delle cose belle attraverso, questa volta facciamo parlare i messaggi, il profeta, le sette coppie del tempo della fine, guardate quante cose il profeta ha detto nel messaggio, sapete voi su questo, per chi leggi, per chi l'ha letto, sapete cosa dice il profeta sulle sette coppie? Lui aveva in cuore di predicare queste sette coppie, però lui non l'ha potuto mai fare, no? E un giorno il signore gli disse, tu lo dici, non è per te, le trombe, non sono per noi, sono per Israele, no? Però lui profeticamente ne ha già parlato, e dove che ne ha parlato? Nei vari messaggi che lui ci ha lasciato in quelle piccole cose, in quei tre feletti pochi, e sulle coppie c'è tanto di chi parlare, fratelli, oggi a Dio Vicente ci rallegreremo, che il signore ci benedica, amene, e ci fa stare saldo, perché fratelli, sinceramente, fuori da questa verità, c'è solo buio, alleluia, c'è solo buio. Ringraziamo il signore che ci ha dato una luce, ci ha dato un messaggero, ci ha dato un profeta, e questo noi lo mettiamo sempre davanti ai nostri occhi, amene, perché se non era questo messaggio, per noi questa Bibbia sarebbe stato sempre un libro chiuso, alleluia. Ok, il signore ci benedica, allora andiamo con la prima diapositiva, allora ogni tanto mi piace andare a vedere che cosa si sta muovendo in Israele per il terzo tempio, no? Guardate, allora, guardate qua, hanno creato un partito di destra che è pro-tempio, e infatti, cioè, i sondaggi lo portano che ora il 17 settembre si voterà un uomo in Israele, ci saranno votazioni, cioè, lì, il nemico pubblico di Israele è Netanyahu, cioè, guardate cosa, cioè, Dio ha messo quest'uomo, Beniamino, cioè, neanche a farlo apposta si chiama Beniamino, sappiamo che l'ultimo gruppo che il fratello Brano parlava, c'è il gruppo di Beniamino, no? Io sono i 144.000, io ero il più piccolo dei fratelli dei 12, quindi, allora, tutti i principali sondaggi confermano il partito del terzo tempio, hanno chiamato il partito del terzo tempio, il partito pro terzo tempio, perché loro vogliono battere per costruire il tempio, no? Allora, nel Parlamento di Israele dopo l'elezione si pensa che avrà 4, 5, 6, per lo meno dovrebbe conquistare, è già una buona soglia per un partito che già, che già è nel nasce, no? Però quello che a noi ci interessa, fratello, è che, come dice il fratello Brano, un abisso chiama un altro abisso, che cosa vuol dire? Se in me c'è quella sede, se in noi c'è quell'abisso della sede che chiama, perché chiama? È perché da qualche parte dice il profeta e c'è dell'acqua che ci aspetta. Ora, se il popolo di Israele ha questa fama di ricostruire il tempio, vuol dire che da qualche parte c'è un tempio che si deve costruire e che Dio sta mettendo quella fama e sede perché è oggi il tempo di farlo, fratello. Quindi sappiamo che quando ciò comincerà, la Chiesa se ne andrà. Quindi ancora vediamo da questo che il tempo è vicinissimo. Allora, noi lo diciamo ogni domenica. Ma sapete, infatti riflettiamo su questo. Perché noi sempre puntiamo sulla fine dei tempi, fratello? Perché la fede rapidisce. La fede dice che alla fine ci deve essere questa fede rapidisce. In nostro cuore abbiamo questa fede, fratello, ecco perché andiamo sempre a investigare su quello che sta per accadere. Perché viene chiamata fede rapidisce. Quella fede, quella certezza di andare alla ricerca di che Gesù sta per tornare. Noi non siamo come quelli, fratello, a quando viene e viene. No. Noi non siamo di quelli quando viene e viene. Noi siamo di quelli che abbiamo alzato gli occhi al cielo perché come disse Gesù, alzate gli occhi in cielo perché la vostra redenzione è vicina. E francamente, fratello, dopo vent'anni, venti quelle che sono, perdere questo significa essere pazzi, fratello. Lasciare le retini significa non avere capito nulla in tanti anni. Ci stanchiamo, sì, perché l'attesa è, ma fratello, ecco perché Gesù dice beate gli ultimi perché saranno i primi. Perché chi entra l'ultimo ha sempre quella gioia, no? Quella cosa bella che... Comunque, possiamo essere abbattuti, ma mai, possiamo essere a porte delusi, ma mai sconfitte, fratello. Il Signore ci perde. Quindi se c'è questo, se c'è questa fame lì in Israele per costruire questo tempio, vuol dire che è tempo, fratello, per la sposa, di andarsene. Alleluia. La grazia sta rivolgendo questi sorelle. Ok, andiamo avanti. Allora, andiamo... Allora, andiamo a vedere... Abbiamo fatto tre prediche su questo fatto delle piaghe, no? Quindi non c'erano, no? No, così le tratteremo proprio velocemente. Allora, andiamo a vedere gli obiettivi per cui Dio mandò le piaghe in Egitto. Allora, andiamo a vedere questo. L'obiettivo di Dio nell'invio delle piaghe fu il primo che Dio si usa sempre di un profeta. Sapete, mettetelo su questo. Lui mandò dieci piaghe di cui sette furono parlate. Perché Mosè andò lì da farone e gli disse vede che oggi succederà questa cosa. Mentre invece tre piaghe avvennero senza nessuna comunicazione. Quindi noi abbiamo dieci piaghe con sette messaggi. Abbiamo già quello che a noi ci interessa. Apocalisse dice sette. Ameno. Che Dio non fa nulla che egli non rivela il suo piano ai suoi profeti, ragazze. Ameno. Quindi, allora, perché ne mandò una al giorno? Ci poteva dire a Mosè, vai da farone e digli tutto quello che accadrà in questi giorni. Perché c'è un profeta per ogni tempo, un profeta per ogni giorno. Sette volte fu inviato con un messaggio al farone che è il simbolo delle denominazioni, no? Quindi Dio si usa di un profeta per parlare al popolo dando un messaggio. La seconda cosa che fa? Perché dà un messaggio? Perché quel messaggio deve, preservare gli eletti, fratello, ameno. Quel messaggio preservò gli eletti da un lato, mentre dall'altro purtroppo causò la piaga sui disobbedienti. Perché chi non ascoltava purtroppo ne fu colpita, ameno. Mentre l'ultima cosa che fecero queste piaghe fu quella di distruggere il sistema religioso. Perché ogni piaga, fratello, come noi abbiamo studiato, era indirizzata a un Dio che l'Egitto adorava. La prima era il Dio Nilo, il Dio dell'acqua santa, l'acqua sacra, la chiamava il farone. Poi abbiamo le rane, un'altra del Dio della fertilità, poi ci fu uno dei cimici, tutto quello che accadde. Ogni piaga che mandò aveva a che fare con un suo idolo. Dio distrusse ogni idolo di sé. Addirittura la rona piaga fu l'oscuramento del sole in pieno giorno quando loro credevano che il farone era il rappresentante del Dio sole, oscuro pure lui. E poi alla fine, come dice il profeta, lo vedremo nei messaggi, inviò l'ultima piaga la più brutta fu la morte dei primi geneti, fratello, ameno. Allora andiamo nella seconda. Quindi abbiamo visto il lato materiale, andiamo a vedere il lato spirituale delle dieci piaghe. Nelle dieci piaghe che abbiamo visto. La morte, perché l'acqua fu trasformata in sangue, abbiamo visto un simbolo di Cristo. La rinascita, perché le rane avevano a che fare con la nuova natura. A Medagirini diventano rane ed erano le ostetriche egiziane che portavano questo, perché era un segno di fertilità, no? Quindi è di nuova nascita, quindi. Poi abbiamo visto che cosa? La resurrezione, perché che cosa successe? Mosè batte a terra la polvere e dalla polvere uscirono fuori le cimici. Quindi morte, risurrezione, morte, nuova nascita e la resurrezione che ci sarà nel tempo finale. Poi che cosa abbiamo visto? Il giudizio sulla carne, le mosche che si mancevano la carne umana. Poi che succede? Abbiamo visto che andò su chi? Le bolle che si rivestarono su chi? Su coloro che avevano il marco della bestia come noi abbiamo poi studiato, no? Sono tutti i simboli che noi abbiamo visto spiritualmente in quello che succedeva. Poi fu rivestato su che cosa? Sulla chiesa. Perché? Abbiamo visto la piaga delle cavallette. Vi ricordate che dice Amos, io vi ristorerò dalle annali che hanno mangiato la cavalletta, il blu e così via, no? E poi alla fine abbiamo visto l'oscurità del sole e poi abbiamo visto la libertà. Quando ci fu l'ultima piaga, che fu la Pasqua, ci fu questa liberazione. Ok, andiamo avanti. Queste sono le prime due storie che abbiamo noi fatti, abbiamo due studi e poi andiamo a quella di domenica, la Coppa della Gelosia, fratelle. Questo messaggio è stato bello, fratelle, è stato bello perché innanzitutto non c'è riscontro in Italia, se qualcuno abbia scritto su questo di qua, no? Quindi è già una cosa bella che Dio rivela ancora, ancora rivela sempre acqua fresca, fratelle. Sempre cose belle. Poi unito al messaggio è ancora più bello, fratelle, perché non c'è riscontro. Amen. Quindi, allora, nella Coppa della Gelosia cosa abbiamo visto? L'obiettivo di Dio fu dimostrarci che la Coppa che ci accusava ora è nelle mani di Cristo, ancora oggi, quella Coppa, fratelle, è nelle mani di Cristo. Amen. Quando la grazia finirà, la Coppa, abbiamo visto che è ritornato dopo, nelle mani della grande prostituta. Amen. E di nuovo là, vedete, quella Coppa è di nuovo là. Lei ne berrà, gli ha fatto bere a tutti e tutti vengono giudicati, perché dice, le acque devono amare. Amen. Quindi il mondo passerà per la tribolazione. Amen. Dio ci benedico. Ora invece andiamo a questo messaggio, passaggio del profeta. Quindi, le sette coppie del tempo della fine, spiegate dal profeta William Brown. Allora, andiamo a vedere, fratello, andiamo con la prima cosa. Andiamo a vedere cosa dice il profeta in alcuni passaggi, perché lui era ansioso di poter parlare su questo. Allora, in un profeta per l'uomo che pensa, del 65, quindi siamo alla fine del ministerio, ad agosto. Sto ansiosamente aspettando l'ora in cui possiamo unirci tutti in un luogo e predicare su queste sette piaghe, sulle sette coppie, le trombe e così via. Avvengono tutti proprio in un gruppo. Questa è la ragione per cui ci occorrerà circa una settimana, dice il profeta, dieci giorni o più per finirle in una sola riunione, se possiamo. Penso sia proprio necessario. Quindi, fratello, prima aveva questo desiderio di parlare su questo. Però, purtroppo, non l'ha mai potuto fare. Ma Dio gli disse che, benché lui non avesse predicato perché era per Israele, ma già, profeticamente, nel messaggio non ne ha parlato. Allora, andiamo avanti, vediamo. La predicazione è il secondo suggerito del 63. Molto bene, ora fate attenzione, ci dice il trentesimo capitolo dell'Apocalisse. Cercate di aprire tutto il cuore e lasciare che lo Spirito Santo vi insegni. E uno dei sette angeli che aveva le sette coppie venne. Ora vedete le sette coppie? Dice, conoscete queste sette che stiamo per esaminare? Tutti avvengono proprio nello stesso tempo. Seguono le piaghe, le epoche della Chiesa allo stesso modo. Perché è tutto suggellato in quel libro. Ogni cosa avviene in successione. E una si entra nell'altra, e questa altra in un'altra. I due spiriti stanno parlando, dice, Dio è il diavolo. E mi parlò dicendo, vieni, io dimostrerò il giudizio della grande meredice che siede su molte acque. Quindi ancora il fratello Brano ribatte su questo punto, no? Dice, questo è un insegnamento bello perché attraverso, nelle epoche ci sono le piaghe, ci sono le trompe, tutto è dell'insieme, a me no? Tutto è sigillato, alleluia, andiamo avanti. Ecco perché le Chiese non lo trattano, fratelli, perché non hanno ancora questo libro di sigillato. Io mi ricordo, quando frequentavo le Chiese, che quando si parlava di Apocalisse, fratelli, l'unico Brano che si prendeva era Apocalisse 3,14. Tu non sei né freddo né caldo. Mi ricordo questa espressione di Apocalisse dell'epoca dell'Odicea, predicavano solo su quello, ma su tutto il resto, fratelli, è stato sempre un tempo. Ringraziando il profeta abbiamo noi, Rivelazione capitolo 4, il trono, 24 anziane, Apocalisse 5, i sigilli svelati, perché questo era il tempo di farlo, fratelli. Invece come dice Apocalisse 1, Beato dice che custodisce i parole di questo libro. Amen. Mentre per morto questo libro è rimasto tabù, fratelli. Alleluia. Quindi, allora, andiamo al settimo sigillo del 63. Prenderemo ora il primo versetto dell'ottavo capitolo dell'Apocalisse dice il profeta. Dobbiamo ricordare che questo settimo sigillo è la fine del tempo di tutte le cose. Proprio così, delle cose scritte nel libro del settimo sigillo, sigillate con il piano di redenzione prima della fondazione del mondo. Ogni piccola conclusione è la fine, è la fine del mondo tormentato, è la fine della natura tormentata, è la fine di tutto, è la fine delle trombe, è la fine delle coppie, dice, è la fine della terra, eppure è la fine del tempo. Il tempo è scaduto, la Bibbia dice così. Amen. Allora, andiamo avanti, andiamo a vedere ora questo. Allora, nell'epoca della Chiesa, nell'introduzione, il fede romano dice questo. Questo è necessario per studiare e comprendere il resto della rivelazione, perché fuori dalle epoche arrivano i sigilli, fuori dai sigilli arrivano le trombe, e dalle trombe arrivano le fiale, o le coppie. Come il primo scoppio di una candela romana, dice il profeta, all'epoca della Chiesa emanarono una potente illuminazione iniziale, senza la quale non potrebbe esserci più luce. Dal libro delle sette epoche, voi vi ricordate, il mio nonno veniva acceso proprio così, si accendeva dal fuoco sacro, la prima luce, e poi attraverso la prima luce si accendeva alla seconda, perché la stessa, vedete, i fuochi è uno. Amen. C'è un solo Vangelo, un solo Battesimo e un solo Dio. Da lì quella luce si è propagata per tutte, lo stesso messaggio, fratello, da Paolo fino al profeta del nostro tempo. Amen. Allora, andiamo avanti. Allora, si parla di ira di Dio, fratello, ora andiamo a vedere questo concetto, che noi troviamo in Romano 1,18, perché è forte. Senza rivelazione, fratello, non lo possiamo capire. Allora, Romano 1,18, Paolo parla ai Romani, e a tutta la Chiesa e anche a noi fino ad oggi, di ciò che cosa vuol dire l'ira di Dio quando l'uomo rigetta Dio, quello che avviene. Allora, perché l'ira di Dio si rivela? Ora, il verbo usato qua si rivela, è Apocalisse, che vuol dire viene resa note, viene scoperto. Quindi, l'ira di Dio qua dice viene rivelata. Dove viene rivelata? Quindi, attraverso l'Avocalisse, è attraverso il messaggio dell'ora. Perché questo è l'unico messaggio, fratello, che ci rivela che c'è un'ira di Dio che sta per venire sulla terra. Amen. Quindi, si deve arrivare in un punto in cui questa ira viene svelata oggi è il tempo dell'ira. Oggi non siamo sotto un messaggio di giustificazione, un messaggio dell'ora, ma siamo sotto questo messaggio che ci sta spiegando a noi cosa vuol dire essere sotto l'ira di Dio. Quindi, perché l'ira di Dio si svela, quindi si rivela nota, dal cielo sopra ogni impietà, che sono gli empi? Quelli che sono privi della reverenza di Dio. E cosa vuol dire impietà? Uomo è empio. E ingiustizia, cos'è l'ingiustizia? E' la saggezza non giusta. Le cose fatte al contrario di come si dovrebbero fare. Degli uomini, attenzione, che soffocano, ostacolano vuol dire che ostacolano o reprimono la verità. Quindi questa gente, fratelli, non è la gente del mondo che soffrono la verità, ma è la gente ecclesiastica, i religiosi che ostacolano la verità, che hanno oppremuto sempre la verità, a partire da Paolo fino ad arrivare ai nostri giorni di questo messaggiamento. Quindi ho prima la verità, nell'ingiustizia. Infatti Matteo 23,13 dice questo, ma guai a voi scrive a fare sei ipocrite, perché chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini. Dice, poiché né entrate voi e né lasciate entrare coloro che stanno per entrare. Ma sia allorato di Dio che c'è una predestinazione, fratelli, perché se non ci fosse le lezioni, nessuno entrerebbe. Ma come c'è una lezione, come si dice scrittura, gli eletti, se fosse possibile sarebbero sedotti, fratelli. Amen. Quindi andiamo avanti. Allora, che cosa succede? Roma 1,18 è forte, perché uno deve morire e c'è la tutta. Che cosa dice il profeta Paolo? Dice, poiché voi avete lasciato Dio. Dio ha fatto in modo che vi accendeste uno verso l'altro, lasciando i propri costumi e infiammandosi uno verso l'altro. Così, uomini con uomini e donne con donne. Perché voi avete lasciato Dio per che l'avete messo come una creatura, infatti, e così via. E Dio vi ha lasciato una mente rebroba, una mente storta, affinché i vostri pensieri si girassero uno verso l'altro. Non fosse più pensieri verso Dio, ma pensieri verso l'uno e verso l'altro. E oggi, infatti, abbiamo i filosofi, abbiamo la gente che crede più ai filosofi, la gente che crede più agli ati e così invece di credere al Dio. Ma qui parliamo sempre, però, di una situazione che ha a che fare con la Chiesa. Amen. Allora, andiamo ora qua al messaggio di preparazione, fratelli. Alcune stratte sul tema tratto dai messaggi. Dal messaggio di preparazione del 53. Credo che le persone siano in preparazione dell'ultima... Guardate che dice quel profeta, oh, e queste sono cose profonde. Quando uno le legge, se le legge così, dice, vabbè, ma quando le legge profonde, infatti, sono anche segnate. Allora, credo che le persone siano in preparazione dell'ultima grande distruzione che questo mondo conoscerà mai. Credo che siamo alla fine. Puoi parlare alle persone, potresti mettere un bellegreme in ogni città degli Stati Uniti, dice. Bevono whisky e fumano sigarette e ridono di te e di tutti restano allo stesso modo. Sono nello spirito degli ultimi giorni e Dio non può inviare la distruzione prima che il popolo non sia nello spirito per la distruzione. la gente è nello spirito della distruzione. Perché di Dio non ci interessa nulla, perché di quello che accade non ci interessa niente. Sono in quello spirito. E il profeta dice, Dio non ha mai distrutto nulla. È l'uomo che distrugge se stesso. Amen. Oh, sono concetti semplici, ma parole che proprio attagliano, fratelli, ti fanno vedere la realtà. Quindi ci deve essere una generazione che deve entrare nello spirito della distruzione, fratelli. Amen. Amen. Ok, andiamo avanti, vediamo. Allora, Romani 9,22. E che dire se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con molta pazienza i vasi dira preparate, che vuol dire predestinate, per la perdizione. Quindi come sono, quindi com'è questa umanità, fratelli? C'è un'umanità eletta, preparata per ricevere il regno di Dio, ma qui dice che c'è un'umanità preparata, vasi dira preparati per la perdizione. Amen. Siamo in un grande firma, fratelli, in cui il regista è Dio e noi siamo gli attori. Amen. Ognuno ha la sua parte. Ringraziando il Signore, a noi ci ha cavato la parte degli eletti di Dio, fratelli. Amen. Perché potevamo essere di quei vasi preparati per la distruzione. Ecco perché non ci possiamo innalzare sugli altri. Ecco perché a volte dobbiamo provare anche compassione per questa gente, perché vorrebbe seguire il Signore. Ma è come se c'è un velo, fratelli, un velo che ne impedisce di vedere la verità. Amen. Quindi Proverbio 14, 12. C'è una via che l'uomo sembra dritta. Infatti c'è una via che l'uomo sembra dritta. E dice, oh, segui il Signore, ammi il Signore. C'è una via, ma la sua fine sfocia in via di morte. Amen. E' così purtroppo, fratelli. Sembra tutto dritto, ma la sua via sfocia in via di morte. Amen. Allora, andiamo avanti, vediamo. Allora, le fasi di questa perdizione. Allora, uno, Dio manda un messaggio di pendimento che è una chiamata a cambiare il tuo pensiero. Così usa Dio. Dio manda un messaggio di pendimento che è una chiamata a cambiare il tuo pensiero. Due, rifiutano la misericordia di Dio. Tre, le loro mente che ci sono distolte da Dio si rivolgono l'una verso l'altra e per questo motivo Dio li ha ciecati a bine affetti, dice così ancora il romano. Se noi lo leggevamo tutto. Quattro, fanno un atto malvagio uomini con uomini e donne con donne. Cinque, ricevendo così in sé quella ricompensa, che vuol dire salario, del loro errore. E questo, che cosa fa cadere poi addosso all'uomo la calamità? Loro stessi, fratelli, come disse, prendono il salario del loro peccato. Amen. Quindi Dio manda un messaggio di pendimento che è una chiamata a cambiare il tuo pensiero. L'abbiamo cambiato questo pensiero, alleluia. Amen. L'abbiamo cambiato, fratelli. Alleluia. Ma che succede? C'è un gruppo che rifiuta la misericordia di Dio e le loro mente che ci sono distolte dal Dio si rivolgono l'una verso l'altra. Oh, è pazzesco, fratelli. Amen. Per questo motivo Dio le ha ceduti a vini affetti. Amen. Ok, andiamo avanti. Allora, Romane 1,28. Allora, l'importanza della rivelazione, fratelli, questa è importante. Romane 1,28. E siccome non si sono curati di ritenere la conoscenza di Dio, e poi noi dobbiamo andare a prendere proprio le parole belle e profonde che dice Paolo, e siccome non si sono curati di ritenere la conoscenza di Dio, poi per conoscenza di Dio vuol dire solo conoscere Dio, conoscenza ha a che fare con rivelazione. E siccome non si sono curati di ritenere la rivelazione di Dio, Amen. Il Dio le ha abbandonate ad una mente reproba perché facessero le cose che sono scontenze. E adesso, Amen. Il Dio, perché? Perché non hanno accettato ciò che il Signore sta facendo per te oggi, ora, in questo tempo in cui noi stiamo vivendo. Amen. Allora, andiamo avanti, l'importanza della rivelazione. Quindi l'ira di Dio è scritta in Apocalisse. Allora, Apocalisse 15,1. Quindi è detto un altro segno in cielo grande e meraviglioso. Sette angeli che avevano le ultime sette piaghe. Questi in esso si riempie l'ira di Dio. Devo parlare di l'ira di Dio. Ora la vediamo in Apocalisse manifestata. Amen. Apocalisse 15,7. E una delle quattro bestie diede ai sette angeli, sette fiale d'oro, pieni dell'ira di Dio, che vive nei secoli dei secoli. Dove sono queste sette ire? In fiale di doro, oppure coppe. Apocalisse 16,1 dice. E udì una gran voce dal Tempio che diceva ai sette angeli. Allora, guardate che bella questa espressione. Questa l'ho presa dalla Bibbia che diceva. È diversa dalle nostre Bibbie. Allora, Apocalisse 16,1. E udì una gran voce dal Tempio che diceva ai sette angeli. In quella nostra c'è scritto andate e rivestate le fiale dell'ira di Dio sulla terra. Invece in quella del GEM dice questa. Segui le tue vie e rivesta le fiale dell'ira di Dio sulla terra. Pace, fratello. Quindi, guardate che è diverso il coso. Allora, perché poi lo vediamo quello che dice il profeta. Dice ai sette angeli, seguite ognuno la sua via. I sette angeli sono i sette messaggieri. Amen. Allora, dopo ogni messaggio, ora il profeta spiega una cosa. Quindi, seguite la sua via. Che cos'è? Andate per il messaggio del vostro giorno. Ognuno con il suo messaggio. Avete il messaggio, ma avete pure la fiaga. Amen. Seguite, quindi, le vostre vie e rivestate le fiale dell'ira di Dio sulla terra. Salmo 103,7 dice così. Egli ha fatto conoscere a Mosè le sue vie e ai figli di Israele le sue opere. Amen. A Mosè ha fatto conoscere le sue vie e al popolo ha fatto conoscere le sue opere. Amen. Allora, andiamo avanti. Allora, l'ordine delle piaghe è descritto nel messaggio. Guardate cosa dice qua il profeta. Su primo sigillo del 63. Ha inviato il primo messaggero e ha predicato. E la tromba suonava e poi la tromba stava dichiarando guerra. La tromba indica sempre guerra. Il messaggero lancia e viene sulla terra il messaggio dell'ora. Come quello di Lutero. Come uno dei messaggeri di cui abbiamo parlato. Cosa fa? Arriva e un sigillo si apre. Rivela. Suona una tromba. La tromba che cos'è? È il messaggio. Ora, a volte la gente, è su questo sbaglio, no? Quando si parla di Apocalisse 17, dice non è il fratello Brano. Perché lui non suona la tromba? Dice guardate. Ma qua il fratello Brano parla proprio che ogni messaggero sta suonando la tromba. La tromba che cos'è? È un messaggio. Dal momento che tu emani questa tromba, dice il profeta, dice la tromba è anche una guerra. Perché dal momento che tu parli, si apre una guerra. Perché il messaggio cozza contro la tradizione religiosa. Questo è quello che avviene. Quindi, quando fa, arriva un sigillo, si apre, rivela, suona una tromba, dichiara la guerra e se ne vanno. E poi il messaggero muore. Sigilla via quel gruppo. Sono messi da parte. E una piaga cade su coloro che l'hanno respinta. Quindi, vedete? La coppa e il messaggio. Quindi hanno la tromba e la coppa. Perché dopo che se ne vanno, una fiala colpisce. L'umanità. Ma ora puoi spiegare altre cose, il profeta. E poi continuano. Poi si organizzano, prendono un'altra organizzazione e così via. Allora, andiamo avanti. Quindi. Allora. Ora il profeta dice qua, sempre nel primo sigillo del 63, l'Eospedale 53. Dice questa. Ecco il piano di ciò. Il profeta spiega il piano. La prima cosa che si verifica, c'è un annuncio nei cieli prima. Che cosa accade? Un sigillo viene aperto. Dice di che si tratta? Un mistero è spiegato. E quando il mistero si spiega, allora una tromba suona. Essa dichiara una guerra. Una piaga si riversa e si apre un'epoca della Chiesa. Vedete? Perché cosa avviene alla guerra? L'angelo della Chiesa prende il mistero di Dio. Ancora non pienamente rivelato. Perché noi sappiamo che, per esempio, Lutero non è per tutta la verità. Cioese non è per tutta la verità. E altri uomini non è per tutta la verità. Amen. Ma è per una parte di quella verità. Invece dice ancora non pienamente rivelato. Ma quando lo fa, prende questo mistero di Dio e allora si va avanti verso il popolo. Che cosa fa là fuori? Comincia a programmare quel messaggio. Che cosa inizia una guerra? Una guerra spirituale. Amen. Allora andiamo avanti, vediamo. Allora, giriamo un attimo. Allora che dice nel primo sigillo del 60-13? E poi Dio prende il suo messaggero con gli eletti di quell'epoca e li addormenta. E poi lascia cadere una piada su coloro che la respingono. E allora guardate come lo chiama? Un giudizio temporaneo. Quindi molti pensano che le sette coppe, il profeta abbia insegnato che cadono con i messaggeri, con ogni messaggeri. Il profeta dice sì, cade una coppa di giudizio, ma è solo una coppia temporanea, perché le sette coppe poi si rivesteranno nel tempo della grande tribolazione. Vediamo come il profeta, quando noi andiamo a leggere si sistemano le cose, quindi noi diamo un giudizio temporaneo. Andiamo avanti, fratello. Allora, insegna per il credente. Quando lui si prepara a fare qualcosa, separa il credente dall'incredo, fratello. Se c'è una distruzione in atto, Dio prima deve fare questa separazione. Che cosa ci ha separato? E' il messaggio, fratello. Amen. Alleluia. Quindi, è notato allora come lui provvede il popolo della terra promessa. Guardate cosa fece là per il suo popolo della terra promessa. Per essere certo che non si mascolassero con alcunismo. Che cosa fece lui? Bando loro un profeta, Mosè con un messaggio che identificava la parola di Dio. E per identificare Mosè, gli diede pure la colonna di fuoco. Amen. Che stava sospetto sotto lui. Amen. Quindi, per dargli la certezza perfetta, lui richiedeva un segno. Amen. C'è un messaggero, un messaggio, c'è la rivendicazione e il segno. La certezza perfetta che non si dovevano preoccupare di nulla. Guardate, e questo vale ancora per oggi. Fratello, non ci dobbiamo preoccupare di nulla. Amen. Non importa quanto piaghe e colpiscono, né cosa dice chiunque altro di esse. Esse sono suggellati via. Siamo messi a parte. Amen. Siamo suggellati. Non abbiamo bisogno di preoccuparci di nulla. Alleluia. Quindi, il segno per il credente. Andiamo avanti. Allora, ora il fratello Branham prende due seggetti. Apocalisse 7, 1, 3 e poi prende Ezechiele 9. Le leggiamo tutte e due. Apocalisse 7, 1, 3 dice questo. Dopo questo vede i quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra perché non soffiasse sulla terra né sopra il mare né sugli altri. Poi vede un altro angelo che saliva da sollevante, quindi dall'estero, il quale aveva il sigillo di Dio vivente. E a gran voce gridò ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare, dicendo, non danneggiate la terra né il mare né gli alberi finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo di serve del nostro Dio. Questa abbiamo la chiamata dei 144.000. Prima che queste vengano chiamate, dice, non fate nulla. Dice, amen. Allora, andiamo avanti. E andiamo ad Ezechiele 9, 4. Dove? Che succede? Dio manda un angelo a passare mentre girosalemma. E dice così. Passa in mezzo alla città e in mezzo a Gerusalemme e fa un segno sulla fronte degli uomini che sospirono e gemono per le abominazioni che si commettano in mezzo a lei. Agli altri, in modo che io sentisse, disse, passate per la città dietro a lui e colpite il vostro occhio, non abbia pietà e non abbiate compassione. Uccidete e esterminate i vecchi, i giovani, i vergini, i bambini e i donne, ma non avvicinate ad alcuno che porta il segno. Cominciate dal mio santuario. Esse cominciarono da quegli anziani che stavano davanti alla casa. Ameno. Questa fu una visione che Dio diede alle seghele. Questa visione poi si adempia e lo diceva il profeta. Dove? Lasciamo parlare il profeta. Ameno. Quindi, domande e risposte in ebrei. Dice così il fratello umano. Parte 1. Vediamo rivoluzione nel settimo capitolo e scopriremo qui ora dove, cosa ha detto, è una cosa bellissima, dice. E dopo questo, dice, ho visto quattro angeli in piedi su quattro angoli della terra. Questa è in parallela del seghele 9, dice il profeta. Dove ho visto la distruzione degli ebrei. E qui vedete la distruzione dei gentili. Rivoluzione nel settimo capitolo. Ho visto quattro angeli in piedi su quattro angoli della terra che reggevano i quattro venti. Il vento significa conflitti e guerra. Quindi, che il vento non dovrebbe soffiare sulla terra né sul mare e né su nessun albero. Ora questa è una guerra tenuta, dice. Ameno. Andiamo avanti. Nella predicazione delle dieci vergine, del sessante ancora il profeta dice questo. Ma vedi, e poi tutta Gerusalemme fu distrutta. Ora questo qui è perfettamente un parallelo di rivoluzione 7. Ora guarda, dal tempo in cui Tita sediò Gerusalemme nel mondo, non c'è stato mai, nella storia, in tutto il mondo, una guerra fino al 1914. Infatti, nelle nostre guerre ultime, come sono state chiamate, abbiamo avuto guerre di indipendenza, le guerre franco-inglese e così via, ma mai guerra mondiale. Quando si è mai parlato di guerra mondiale? Nel 14 fino a quella del 40. E infatti, dice, trattenete i venti affinché non soffiamente sui quattro angoli della terra. Perché quasi tutto il mondo conosciuto era in guerra. Vedete ancora quanto poco manca, fratelli. Quindi, allora andiamo avanti e giriamo un altro messaggio. Domanda e risposte sempre del 54. Ora, sui quattro angoli della terra, trattenete i quattro venti, ma fino alla prima guerra mondiale, trattenete i venti, e si stavano sforzando, entrando per prendere il controllo. E ora ecco un altro. Ora, se guarderai e ti rifarai a quell'angelo, è lo stesso angelo che esce da Ezechiele 9. Questa roba le mette in paralleli due angeli, quella di Apocalisse 7 e Ezechiele 9. Quando gli uomini vengono e attraversano Gerusalemme per massacrare gli ebrei, ti ricordi, disse, tienalo finché non attraversano la città e metto un segno su ogni fronte che sospira e piange per gli abomini della città. Questa fu la persecuzione sotto Tito. Ecco quello che viste Ezechiele. Quello che viste Ezechiele fu la distruzione che Tito portava poi ai tempi di Gesù, dove i romani entrarono e non le spammiarono né i bambini, né i panciulli, né i vecchi, e così via. Vedete, quella fu la persecuzione sotto Tito. Lo stesso angelo che viene di nuovo fuori, proveniente da Est, da dove verrà Gesù, e ha il sigillo del Dio vivente. Gloria, dice il profeta. Amen. Quindi, alleluia. Ezechiele 9.4.6 Passa in mezzo alle città. Allora, dice così. Passa in mezzo alle città. La partenza per il giudizio l'ho scritto. E dov'è che dove si doveva cominciare? Cominciate dal mio santuario. Perché il giudizio parte sempre dalla casa di Dio. Ora, per il santuario non vuol dire solo il gruppo dei messaggi. Ma noi sappiamo che quando si parla di epoche delle chiese, il fratello Pai dice Dio parla a tutti e due i gruppi. Ai salvati e non salvati. Quindi parte da là, fratelli. E il giudizio si comincia dalle chiese. Infatti, come dice lì in Apocalisse 3, dice, ecco, io sto per buttare lei con tutte le sue figlie in una grande tribolazione. Amen. Ok, andiamo. Nella voce del segno, dice questo il profeta. L'arrivo di un profeta è un segnale di appettimento che il giudizio ha portato di mano, fratello. Lo è sempre stato. Vorrei solo citarne uno. Dice, guarda noi che scogge nei giorni del mondo antiluviano. Era un profeta, dice. E cosa è successo? Il giudizio ha colpito subito dopo. Dice, guardate Mosè, andò in Egitto. Un profeta è rivendicato con i segni di profeta. Che cosa successe? Un giudizio colpì l'Egitto. E lì avviene sulla scena e profetizza ad Agape a quella nazione. Cosa succede? Un giudizio è colpito subito dopo. Allora, andiamo a vedere. Ecco. Ecco perché c'è bisogno di un profeta, fratello. Alleluia. Un altro messaggero arriva sulla loro. I diversi tipi di piaghe. Ora qua, il profeta parla nei messaggi che cosa sono le piaghe. O lui spiega che una piaga può essere una guerra, può essere un problema con la natura, un teramoto, una pestilenza e così via. Ma ora poi spiega un'altra cosa, profeta. Guardate, un altro messaggero arriva sulla terra per un'epoca della chiesa. Quindi quando arriva la tromba suona, dichiara guerra e poi che succede? Alla fine viene preso. Io non lo prendo, no? Poi quando viene messo da parte, la caduta della peste li distruggono. Quindi qua spiega un'altra cosa il profeta. Non la chiama coppa o una fiala o piaga, ma la chiama peste. Allora, la morte spirituale colpisce le chiese e lei se ne andate con quel gruppo. Quindi passa poi ad un altro. Allora, andiamo avanti perché voglio far vedere un'altra cosa che dice il profeta. Nella settima epaca predicata del 54, il profeta dice questo. Quando la prima guerra mondiale, perché questa sesta tromba suonò esattamente il secondo del tempo in cui Dio ne parlò, allora esattamente geograficamente dice, seguendo il Sicilio prima di quello, e quando il mistero fu rivelato lì dentro per il battesimo dello Spirito Santo e poi per il popolo, come la chiesa non salì e quelle che si muovevano si rifiutarono di camminare nelle luci e tornarono indietro, e la peste fu aperta in quel momento e si riversò sulla terra, che era l'influenza. Ora, parla che una di queste piaghe è stata pure l'influenza. Ora, andiamo, allora, il profeta, siccome giustamente è parlata la predicazione, poi lui si ferma e di nuovo prende, quindi dobbiamo capire. Allora, il profeta che dice? Dico, la prima guerra mondiale è cominciata per come doveva iniziare. Dice, no? Così come anche quando un profeta viene e se ne va, la piaga segue, perché quel gruppo non si è voluto raddrizzare la parola, allora Dio manda una piaga. Ora, che succede? Non è un caso che la prima e la seconda guerra mondiale, fratelle, ha colpito l'Europa. Perché ha colpito l'Europa quando? Quando Dio si è rivolto agli Stati Uniti d'America. Quando Dio cominciò con Paolo in Asia. Poi si è spostato in Europa con chi? Con Ireneo, con Martino Lutero, con Giovese, quindi tutta l'Inghilterra, con Martino. Quindi ha preso tutta l'Europa con l'Utero in Germania e così via. Quando lasciò l'Europa, Dio li abbandonò alla prima e alla seconda guerra mondiale, fratella. C'è un giudizio. Mentre Dio fece prosperare l'America, infatti fino ad oggi l'America prospera. Dopo questo messaggio si è rivelato. Alleluia. Ma anche essa ora che ha rigettato il messaggio, però anche lei è punita, dice il profeta, neanche lei è scamparata. Vedete? Perché il giudizio parte dalla casa di Dio, come abbiamo detto, no? Quindi, allora, che cosa dice? Essi li hanno rifiutati, cosa ha fatto? Una piaga si rivestò sulla terra. Un'influenza. Che uccise tutte le persone mentre la faceva, migliaia e migliaia. Poi scendendo in quest'ultima epoca dove siamo qui e viene, dice, allora il profeta dice questo. Allora vieni e ascolta ciò che il Signore ha da dire riguardo alla sua parola, fratello. Dice, allora venite, non vi distogliete e guardate cosa Dio vi sto dicendo. Allora andiamo avanti. Quindi un'influenza, fratello. Allora, andiamo avanti. Quindi, allora, ho scritto qua, il fratello che ha fatto questo schema, no? Ha fatto vedere come piaghe di distruzione ed influenza hanno colpito l'Europa durante i messaggi dell'epoca che ci sono stati. Guardate, a tempi di Paola sappiamo che l'Ira di Dio si rivestò su che? Su Israele. Quindi Gerusalemme venne distrutta. Ma ci fu un'altra distruzione anche forte che fu quella di Pompei. Guardate, quel grande terremoto che distrusse quella grande città a Napoli. Quindi, allora, poi venne il Reneo e ci fu la piaga bubonica, fu quella peste, che colpì anche l'Asia e fece un sacco di morte. Vedete, dove seguono i messaggeri ha seguito poi una piaga. Ah, poi, a Pergamo, che cosa succede? In quel tempo dell'anno, nel 457, gli Unni saccheggiano l'Europa. Anche lì ci fu una grande piaga. Infatti, chi era il capo degli Unni? Era Attela, chiamato come? Il fragello? Non è un caso che fino ad oggi rimane... Perché lì c'è dove passava lui non cresceva neanche l'erba. Veniva chiamato il fragello del Dio, quest'uomo. Ah, poi che succede? Nei tempi di Columbo ci fu un altro tipo di peste forte che fece 75 milioni di morte, un'altra peste chiamata la Morte Nera. questo di qua. Poi abbiamo avuto con l'utero dopo, venne fuori la tubercolosi, il XVII secolo. Vedete? Poi ci fu l'influenza spagnola, dopo Joe Wesley. Ci fu questo... E infatti ci furono, guardate, fece un milione di morti e quasi due milioni di infettati. Pensate come... E ancora che volte... Infatti mi ricordo, io l'ho più conosciuto, la spagnola, quando si parlava di questo. Oggi sembra tutto a posto, no? Oggi sembra tutto a posto. Ma ancora ci sono sette fiale che si rivesteranno su tutte. Ora il profeta spiega. Ora dice così il profeta che ti faremo andare la bocca aperta. Comunque, è vero. Il fratello padre dice, vedete cosa fa? Il profeta inovale è messaggero e un'influenza colpisce. E una piata colpisce. Una guerra è quello che è. Amen. Allora, andiamo a vedere. Allora, vediamo. Allora, andiamo a leggere così poi terminiamo. Cosa dice il profeta sulle ultime piaghe. Andiamo a vedere dal messaggio. Allora, nella tempesta in arrivo, fratelli, vediamo i giornali alla tempesta in arrivo. Quando torna a casa stasera? Fammi un po' dice il fratello frano. Leggete l'Apocalisse 8. Vedete le pestilenze e le rimbestie in arrivo che colperanno la terra. Tuone e fume ne scuoteranno il cielo. Ma oggi è vero, eh? Guardate che sta succedendo. Ci sono persone che ancora fino ad oggi studiano il tuono, studiano... Perché oggi sono così forti queste... Sono così forti oggi che mai c'è stato sulla terra un fenomeno così grande del cambiamento climatico. Quindi, allora, E tuone e fume ne scuoteranno il cielo. I guai passeranno sopra la nazione. Gli uomini marciranno nella loro carne. Le malattie colperanno e tuoi medici non sanno nulla. Pensiamo all'Ebola. E mai c'è le persone completamente e così via. Ma ricorda, prima che ciò avviene c'è un suggellamento e gli angeli della morte e le piaghe furono commissionate da Dio. Non avvicinate a nessuno di quelli che hanno il sigillo sulla fronte. Amen. Questo non vuol dire che un credente non muore, fratello. Io lo dico sempre perché a volte possiamo andare a noi dal lato estremo per dire a uno che è con il Signore non ci succederebbe. No, a Dio sape ogni cosa, fratello. Qua parliamo di quello che avverrà poi. Non avvicinate a quelli che hanno il sigillo sulla fronte. Il sigillo di Dio è il battesimo dello Spirito Santo. E vessino in quattro tende dice il profeta non affliggete lo Spirito Santo di Dio per cui sei stato sigillato per quando? Pugnonno? Per due giorni? No. Fino al giorno della tua redenzione. Ecco perché al tempo di Eliseo quando fu buttato quel morto nella tomba di Eliseo quel morto risuscitò, fratello. L'avevi mai detto, fratello? Scavarono dove c'era la tomba di Eliseo e buttarono un morto. Il morto a contatto con le osse risuscitò perché il suggerimento dello Spirito Santo rimane là. Ecco perché poi quando sarà il tempo della risurrezione tutto andrà a seminare ognuno con il suo colpo lui dice ma come le osse così Dio sa, fratello? Noi non sappiamo ma Dio sa tutto alleluia. Quindi non affliggete lo Spirito Santo di Dio per cui sei stato sigillato fino al giorno della redenzione. Ok. Andiamo, andiamo perché dice cosa è bella ora. Allora la religione inizia è bella. Quando ti manda un messaggio e dice alla gente e loro non lo ricevono allora ritira il suo servo e manda le sue piaghe carestia, morte parlando spiritualmente anche fisicamente dice stai attento alla depressione fratello pensi di aver visto qualcosa dopo poco aspetta dice non hai visto nulla dice pensi di morire per un buon risveglio spirituale aspetta fino a dopo un po' deve solo aspettare a lungo e piangere per ascoltare la parola di Dio ora spiega una cosa importante una di queste cose come carestia non è una carestia solo di pane come vediamo nel mondo ma parla di una carestia che negli ultimi giorni ci sarebbe stata come disse il profeta che non è di pane di acqua ma di ascoltare la parola di Dio fratello ma noi ringraziamo il Signore siamo un bel goscia perché attraverso questo messaggio stiamo ascoltando e stiamo veramente viaggiando e camminando su questo e non solo per pane ma per ascoltare la vera parola di Dio ma quella voce sarà calma nel deserto da qualche parte nascosta amén ok giriamo vediamo allora il messaggio israel al marosso ora stiamo arrivando all'ultima piaga ultima cosa Dio disse sono stanco vado a dare l'ultima piaga ora voglio che te ne accorgi dice questo è come se Dio parlasse con il farone l'ultima piaga fu la morte ora abbiamo avuto terremote abbiamo avuto guerre voci di guerra abbiamo avuto maremote il cuore dell'uomo che cedeva per problemi cardieci paura per prestità del tempo angoscia tra le nazioni ma l'ultima piaga è la morte non parlando fisicamente ma ancora più brutto dice il profeta ma parlando spiritualmente la morte spirituale nella chiesa notate che era tra i figli la morte spirituale la chiesa più membro di quando abbia mai avuto prosperando meglio di quando abbia mai fatto eppure è più debole di spirito eppure è più debole di spirito che ci sia mai stata è vero è proprio come di fatto dice quel profeta ah no è come in Egitto scusate è come in Egitto amè vedete quella grande chiesa del farone prosperava aveva mangi così via ma quando arrivò la farone arrivavano due con un bastone misero a tacere l'intero Egitto fratello amè quindi vedete la vera paura dice la vera piaga che sarebbe venuta è la piaga della morte spirituale della chiesa amè allora andiamo avanti vediamo la vita fornita da Dio la via fornita da Dio quindi Mosè prese via Mosè prese via Mosè prese via Mosè prese la via fornita da Dio quando furono laggiù in Egitto in Egitto come usciranno allora Dio continuava a indurire il cuore del farone ma ha detto ora sto per fare una via di fuga perché ho intenzione di inviare la morte sulla terra Dio ascolta ecco qualcosa di sorprendente dice il profeta guarda peste dopo peste dopo peste vedete il fratello vengono dice peste dopo peste dopo peste peste bubonica peste spagnola peste a destra peste a destra ma l'ultima peste caduta fu la morte poco prima della liberazione e l'ultima cosa Dio ci ha dato avvertimento dopo avvertimento avvertimento dopo avvertimento ora l'ultima cosa è arrivata è la morte la morte spirituale le chiese stanno morendo spiritualmente per esempio perché non più accettano veramente non si parla più del ritorno del signore siamo un po' che fratello ameno che si parla più del ritorno perché hanno perso questa ormai si parla di sistemare il mondo ormai si parla di avere un posto all'ONU ormai si parla di avere come capo spirituale il papo queste hanno completamente cambiato rotta fratello ameno alleluia quindi le chiese stanno morendo spiritualmente alleluia quindi andiamo avanti nelle cinque congenzioni del tempo dice così un giorno dice la bibbia che le cose scoppieranno su questa terra e malattie e cose tutte le persone saranno afflitte fino a quando la carne macerà su di loro e così via ma la bibbia dice non avvicinarti a nessuno di quelle che hanno il sigillo di Dio nelle loro fronte il sigillo di Dio è il battesimo dello spirito santo ancora qui fratello Brano lo rivenderà ameno allora passiamo in allozione dice questo guardate che dice qua fratello Brano oggi cosa ci affligge fratello il cancro e la malattia che ci affligge guardate che dice il profeta pensa che il cancro sia qualcosa la bibbia dice che sta arrivando un momento in cui gli uomini marciranno nella loro carne e le poiane marciranno le carcasse prima ancora che muoiono il cancro è un mal di dente per quello che sta per accadere il cancro sarà un mal di dente per quello che sta per accadere ma ricorda quel giorno oribile era vietato toccare quelle che avevano il sigilo di Dio quello è ciò per cui stiamo adoperando ora quello è per cui noi ci stiamo adoperando fratello per entrare ed essere posizionati nel regno di Dio prima che questo oribile piacere colpisco perché siamo qua fratello perché cerchiamo una posizione nel regno di Dio ameno alleluia affinché veniamo posizionati affinché non veniamo trovati con lo scolto che quel giorno dirà ma che sta succedendo mentre noi saremo preparati fratello ameno allora andiamo questo è il tempo di preparazione rivelazione capitolo 4 guerra questa è l'ambientazione della grande battaglia il popolo che ha respinto il messaggio di Dio ha respinto lo spirito santo il messaggero delle sette chiese colui che aveva respinto questo messaggio dalla sua grazia non aveva più nulla ma il giudizio era pronto tutto ok si sta preparando a rivestare le piaghe sulla terra ora e viene qua e ti mostrerò che cosa sta succedendo i peccatori senza Dio che respingono Cristo su di essi rivesterò la mia ira dice il profeta ameno ma per questo ringraziamo il Signore ecco perché a volte nessuno ci può togliere la nostra posizione fratello che il profeta ci fa vedere da quale parte stiamo noi stiamo da quella parte come Mosè come il popolo che ha accettato che Dio ha una via che Dio ha una guida ameno che Dio ha un piano alleluia gloria al Signore ok cambiamo vediamo allora fratello una parola sicura e ci lasciamo con questo allora guardate che dice Salmo 91 10 dice ma noi possiamo essere trovati in tutto questo in tutto questo frastuono fratello l'eletto non ci sarà in questo frastuono infatti la scrittura in Salmo 91 10 dice questo male alcuno non ti avverà e piaga alcuna non si accosterà al tuo sabernacolo amesto alleluia e poi il Salmo 34 7 è bello che dice l'angelo dell'eterno si accampa torna a quelli che lo temono e li libera io pensavo questo poco fa io mi ricordo quando andavo quante volte abbiamo sentito il fatto che nel 2000 ci sarebbe stata la fine ma mi ricordo tante ragazze oh ma io avevo una grande paura e contavo gli anni i primi mancano gli 7 anni mancano 15 anni una grande paura che non so che cos'era fratello ma era questo era la preparazione fratello la preparazione qualcosa mancava in noi l'abbiamo realizzato con l'arrivo di questo messaggio nelle nostre vite ameno ma vedete la nostra come si vuole dire è qualcosa che abbiamo fatto in cuosciamento infatti io non mi rendevo conto perché di questa paura che sarebbe venuta alla fine del mondo ameno oggi ringraziamo da Dio lo sappiamo alleluia quindi l'angelo dell'eterno si accampa con quelli che lo temono e li libera atti 13-48 ed è bello ci lasciamo con questo i gentili udendo queste cose si rallegrarono e glorificarono la parola del Signore e tutti coloro che erano preordinati alla vita eterna credendono fratello questa è la più bella cosa il più bel grande proposito di Dio che Dio conosce i suoi chi era preordinata vita eterna ha dato ascolta ed ha accettato alleluia noi siamo posizionati nel corpo fratello non sappiamo in quale posto ma sappiamo che ci siamo vogliamo che diceva io non so se ci sono io spero di esserci guardate noi facciamo un salto in più noi crediamo che ci siamo fratello alleluia Dio ci benedico fratello alleluia leggendo il messaggio tante cose sicuramente ancora ci saranno che il profeta dice magari una poi trova una parola una cosa quindi abbiamo visto queste piaghe parla di guerra parla di di teramoti di pestilenza di malattie di così veramente bello fratello come il profeta aveva una grande ansia di poterlo predicare il Signore gli disse non ti preoccupare perché Gianni ha parlato abbiamente su tutti i messaggi Dio ci benedica